a Vario come ti senti da questa intrapista? In gennaio preferisco preparare un pomelli Invece stiamo proprio improvvisando sentiamo il tuo manager vediamo che dice se stanno arrivando o se sono in un bagno a farsi la droga e ciao Ah si si stiamo qua Sto raffinando il sound check E vengono qua un minuto di caffè Grazie a tutti.